Robi Zain in quinta, Batch Reynolds in sesta, Steve Lewis in settima, Clarence Lallian in ottava, Antonio McKay in nona. Al secondo via tutto è regolare, McKay e Lewis, Lewis in settima corsia, nella divisa turchese del Santa Monica Treclev. Andare forte, passare forte, agguantare Clarence Daniel, controllato ma non troppo, Batch Reynolds, Lewis, Batch Reynolds al centro in maglia bianca. All'interno c'è Danny Ivlett che spunta per primo insieme a Lewis, Batch Reynolds agli 80 finali, l'apertura del passo, la decisione dei suoi appoggi. Ivlett, Reynolds, Reynolds, Ivlett, Lewis, 43, 95 ufficioso, un altro uomo sotto la barriera dei 44 secondi, 20 anni dopo, il risultato ufficiale Batch Reynolds.